Buona serata, ben trovati. Siamo in diretta al Fatto del Giorno assieme fino alle 18.30, oggi con un ospite speciale, è un piacere presentarvi un volto notissimo, Flavio Oreglio, grazie di essere qui, attore, comico, benvenuto. Ciao, grazie a te. Grazie perché parleremo di un bello spettacolo che è in scena proprio a Milano, al Teatro della Cooperativa di Milano fino al 17 di novembre, si chiama Sulle Spalle dei Giganti, vede ovviamente il protagonista Flavio Oreglio che racconta una bella storia. Viene da un libro questo spettacolo, dico bene? Sì, da due libri in realtà, un libro uscito due anni fa che era appunto la storia curiosa della scienza, le radici pagane dell'Europa e un libro uscito da quasi un mese che è il secondo atto di questa storia curiosa della scienza, la rivoluzione degli arabi. Cioè un libro che racconta l'antichità e un libro che racconta il Medioevo. Questa storia che appunto viene raccontata poi agli spettatori ha sì un significato, adesso ci racconterai di che si tratta perché sempre nei tuoi spettacoli metti un tema forte sotto ma si ride anche parecchio, no? Certo, assolutamente. Il mio linguaggio resta il linguaggio satirico umoristico per cui quello è il modo che io utilizzo per esprimermi e non lo voglio mai abbandonare nel modo più assoluto perché prima mi diverto io. Curioso che poi tra l'altro Flavio Oreglio viene in me tutti, a tutti viene il poeta catartico, quello perché quella scena diciamo è rimasta straordinaria. Te lo chiedono ancora di fare? Ma questo sì, sì perché il discorso del momento catartico è stato importante perché Zelig fu una trasmissione di grandissimo successo in quegli anni e divenne addirittura un fatto di costume al momento catartico. Mi ricordo i libri del momento catartico poi hanno venduto tipo due milioni di copie, è una cosa esagerata. Ed era un'icona televisiva molto precisa. Io assolutamente non rinnego quel percorso però già prima di quel momento io facevo altre cose che ho ricominciato e ho ripreso a fare dopo. Ma anche durante. Nel caso sulle spalle dei giganti si parla proprio di temi insomma importanti. Noi adesso scopriremo in questa bella chiacchierata che dietro la risata che viene strappata e che è abbondante nel tuo spettacolo ci sono dei temi quali per esempio la scuola. Le spalle dei giganti, adesso ci spieghi un po' di che si tratta ma si parla per esempio di scuola, di insegnamento. Tu tra l'altro hai un passato dell'insegnante, dico bene. Sì, ho insegnato matematica e scienze per qualche tempo. Che di solito non fa ridere l'insegnante matematica, neanche un po'. Ma invece sai che con la matematica si ride tantissimo. Adesso non è, non faccio la dimostrazione perché sennò sembra, ah guarda che fai il giochino tipo, no. Però fidati, nello spettacolo io parlo molto per esempio di matematica e ci sono parecchie risate. Perché dipende, la realtà dei fatti è che si può ridere di qualsiasi argomento. Non esistono temi comici di suo. Sei tu che rendi comico o divertente un tema, dipende da come ne parli. Perché il fatto di ridere è semplicemente un gioco della nostra testa, un gioco mentale. Se tu sei capace di fare il giochino giusto, fai ridere su quell'argomento. Anche se l'argomento di per sé sembrerebbe non essere per niente divertente. E quello è un segreto... No, no, è evidente. Nel caso appunto si parla anche di insegnamento perché come tesi diciamo che sta sotto queste teorie c'è che l'insegnamento nella scuola non è fatto forse nel modo più giusto, no. Si potrebbe immaginarne un altro, addirittura in qualche caso parli di indottrinamento invece che di insegnamento, no. Prova a spiegarci di che si tratta. Ma guarda, allora la questione è questa. Affrontando questo tema che è la storia della scienza, perché questo spettacolo e questi libri raccontano la storia della scienza, io li ho intitolati storia curiosa della scienza perché è un argomento per gente curiosa, è pieno di curiosità e la curiosità è sempre stata la molla principale che ha spinto l'uomo a ricercare, no. Diciamo che raccontando questa storia, che tra l'altro è una storia positiva, perché se quando tu studi la storia a scuola, studi una sequenza di guerre una dopo l'altra, no, hai l'impressione che gli uomini non abbiano fatto altro che farsi la guerra e cresci con la mentalità per cui dopo gli uomini sono cattivi e quindi se oggi c'è una guerra, eh, cosa vuoi farci? È sempre stato così, no? E quindi l'accetti, invece in realtà la guerra si può benissimo non fare. E quindi raccontando invece la storia della scienza, i fatti positivi che hanno fatto crescere l'umanità, racconti una storia particolare di cose belle, ecco, perché poi le guerre hanno sempre portato odio, distruzione e negatività, invece i passi avanti l'umanità li ha fatti nei momenti di pace o comunque con le grandi scoperte che sono state fatte, che sono utili per tutti. Vero, vero, sono d'accordo, cioè i passaggi chiave sono quelli lì della guerra, guerra 1, guerra 2, allora uno deve fare il collegamento storico tra l'uno e l'altro, in mezzo a quello che è successo, sia lunga o sia breve il periodo, sa che... Esattamente. E cosa succede? Che quindi tu in teoria potresti raccontare la storia dell'umanità, per esempio, in altri termini. Invece, è chiaro che le guerre vanno studiate, non è che dobbiamo far finta che non ci siano state, però bisognerebbe studiare anche altri aspetti. E su questo appunto è il primo dito puntato nei confronti della scuola, no? Perché noi per esempio ci sono dei personaggi che conosciamo, tipo Archimede, no? Archimede perché lo conosciamo? Ne sentiamo parlare a scuola, ma perché lo studiamo in fisica il principio di Archimede, e quindi è un personaggio che sembra fuori dal tempo, no? In realtà occupò un periodo molto preciso, così come Euclide, no? Euclide dove stava? Eh, sì, lo studi a scuola, il teorema di Euclide, i teoremi di Euclide, Pitagora, il teorema di Pitagora, i quadrati costruiti sui cateti, eh, benissimo. Però tu non hai la percezione di dove sono collocati nel tempo, perché in realtà sono personaggi storici che tu conosci perché li studi in un altro contesto. E quasi mai vengono studiati, se non magari nel liceo, giustamente quando ci sono le ore di filosofia, però poi rimettere insieme i pezzi non è semplice. E quindi questo è il primo dito puntato nei confronti della scuola. E poi soprattutto ci sono, per esempio, dei periodi storici che non vengono affrontati assolutamente e che però chiariscono tantissime cose. Uno è sicuramente il periodo dell'ellenismo, che è questo periodo appunto dove ci sono i vari Archimede e di Compagnia Bella. L'altro è un periodo che è trattato nel secondo volume del mio libro, che è la Reconquista Spagnola. Noi sulla Reconquista Spagnola non sappiamo niente. E invece è un tema fondamentale perché è grazie alla Reconquista Spagnola che poi l'Europa si evolve e arriva all'umanesimo e al Rinascimento. Una delle, per esempio, un classico della scuola è che quando si parla di storia si inizia con molta calma perché il programma è settato così. Allora sui dinosauri e sui fossili sappiamo tutto. La seconda guerra mondiale la facciamo in fretta perché poi c'è la fine dell'anno. Hai ragione, è vero, è verissimo. C'è un'idea che i fossili sono fondamentali, poi però va bene il 1920 o 19 fa niente perché avevamo fretta. Esatto. E poi dopo tu ti ritrovi che sei arrivato alla fine degli studi e ricominci da capo e trovi ancora i fossili perché si ricomincia sempre da lì. C'è sempre dei fossili. E quindi, insomma, l'insegnamento è una cosa molto particolare. Secondo me, tra l'altro, una critica che io ho sempre fatto alla scuola è che spesso e volentieri non si comprende fino in fondo il fatto che la scuola è il luogo dove avviene la trasmissione della cultura e non lo sfoggio della cultura. E quindi i professori andrebbero valutati non tanto per quello che sanno, ma per come lo sanno trasmettere. Perché se tu... Allora, io questa è un'esperienza che ho avuto anche all'università. Avevo una docente che era fantastica, era meravigliosa, era la persona, poi una persona splendida, sapeva tutto, non sapeva insegnare. E se tu non sai insegnare non puoi fare l'insegnamento. Perché sei un libro a quel punto, perché sei pieno di conoscenza, ma... Brava, era veramente una roba per cui arrivavano da tutte le parti del mondo a parlare con lei per la sua materia e quindi era chiaramente una persona che sapeva bene la sua materia, però a scuola, nelle sue lezioni, non si capiva niente. Poi arrivava il suo... L'assistente. L'assistente. L'assistente e ti spiegava le cose e tu dici, ah, è così, è semplicissimo, perché l'assistente era capace di insegnare. Che vale anche per il comico, per l'attore, cioè una buona barzelletta non è sufficiente, devi anche saperla raccontare. Perché se no non se la ricorda nessuno. Esattamente. Senti, nella parte poi che riguarda ancora lo spettacolo, secondo te a chi è più dedicato? Cioè va bene proprio perché parla anche di scuola magari per i ragazzi più giovani oppure per chi? Chi è il target di questo spettacolo? No, no, io quando faccio le cose non ho mai un target di riferimento. Cioè io faccio delle cose e poi vedo che sia i giovani che gli adulti che gli anziani gradiscono quello che io faccio. È sempre un problema di sintonia di altra natura. Non è l'età che fa, ma d'altronde insomma i teenager sono un'invenzione degli americani degli anni 50. Quindi sono false queste distinzioni. Quando dice la fascia dei giovani e poi no, no, io parlo alle persone. Poi chi vuole capire capisce, chi non vuole capire non capisce. Senti ma da attento perché poi il comico, chi deve mettere in piedi uno spettacolo che parla anche in questo caso di scienza, è curioso perché devi assolutamente essere curioso tu per primo. Questo tempo invece moderno, la crisi, i nostri telegiornali piuttosto che i nostri giornali fanno più ridere secondo te perché alle volte strappano delle risate involontarie? Oppure c'è questo momento qua, come lo viviamo? Ma guarda, allora io sono anche uno che scrive molto su varie situazioni, tra cui Facebook, un profilo Facebook dove commento ogni giorno notizie che arrivano. Cioè praticamente leggo i giornali online e man mano che trovo delle cose faccio dei commenti in diretta. Ieri, proprio ieri, ho postato una cosa, ho detto devo smetterla di leggere i giornali perché mi fanno male gli addominali. Cioè io leggo di quelle cose che adesso non vorrei riportarle, non è il caso, però leggi delle notizie che non stanno nel cielo o nel terra. Ma il giornale ha lo stesso principio dell'insegnamento storico, cioè il fatto che faccia vedere solo le cose brutte. Secondo te è un impoverimento per chi poi in tutti i giorni si sveglia la mattina, guarda il telegiornale, legge il giornale e già la giornata è rovinata perché dice che è mondo sciagurato e invece non dovrebbe essere così. Sì, ma in realtà le persone dovrebbero cominciare a guardarsi nella vita di tutti i giorni attorno a chi hanno. Perché quando tu dici frasi bellissime tipo io amo l'umanità, è una cosa che ci trova tutti d'accordo, però l'umanità tu la ami, però il tuo vicino ti sta sulle scatole. Allora, quando l'umanità si presenta nella forma del tuo vicino non ti piano l'ami già più. Per cui in realtà noi dovremmo imparare a guardare cosa ci succede attorno e a vivere la nostra realtà tenendoci informati. Però anche questa informazione che è troppo continua, esagerata, noi ogni giorno siamo bombardati da informazioni, informazioni, informazioni ci fanno perdere il filo. Guarda, io ho discusso molto con Mario Capanna che sostiene una cosa molto importante, dice oggi siamo molto più informati ma sappiamo di meno. Ed è una grande realtà, è una grande verità questa che ha detto Capanna. Perché è vero, le nuove notizie cancellano quelle vecchie e tu perdi non più il collegamento tra le cose. Poi arrivano notizie che sono magari di due giorni prima, si accavallano, cioè nel punto televisivo, che è chiaramente il luogo dove avviene tutto questo, lì si accumula una realtà che è completamente diversa dalla realtà che appunto tu vivi tutti i giorni. Che poi è straordinario perché è vero che siamo rapidissimi, cioè io con il tablet e il cellulare posso guardare due cose insieme, intanto ho un orecchio alla tv, le notizie sono rapide proprio perché, però ho il piacere di andare a vedere uno spettacolo dove prendo la macchina, esco di casa, mi siedo e ascolto un singolo, una singola persona, un singolo attore che per un'ora e mezza mi racconta una storia, c'è ancora, ci piacciono ancora le storie per fortuna. Certo, è atavico questo, cioè è proprio il focolare con la persona che racconta, è una cosa che è bellissima. Se tu ti lasci prendere da questa dimensione, la vivi ancora con una grande, cioè un grande piacere, ecco, assolutamente fa parte del nostro modo di essere. Vi faccio vedere come Flavio Oreglio che dice sì, va beh, ma fa ridere, in realtà parli anche latino. Eh vabbè, ho capito. Eh no, lo fa. Guardate questo. Ah oh, ah oh, ah oh, curi in quid turbulentam fecisti mi acquambibenti, laniger contratimes qui possum queso facere quacquere rislupe, ad ade curit at meos austus liquor, repulsus ille veritatis filibus, anteos ex messes maleai, dixisti mi, equidem natus non eram, padre ercle tuus, maledixit mi, o atque ita correptum lacerat, limortaci in iustanice. Dagli sguardi persi nel vuoto e dai punti di domanda che vanno materializzandosi lentamente ma inesorabilmente sulle vostre teste, deduco che è il momento di effettuare una quanto mai opportuna traduzione. E qui parte la traduzione. Esatto. Cioè immaginare di entrare in scena e dire una favola e poi quella del lupo e l'agnello in latino, in questa maniera qua, non è semplice, no? Devi avere... Ma sì perché, beh, allora intanto appunto all'inizio c'è una spiegazione dove dico ma c'è tutto un discorso sul lupo, no? Perché parte da Hobbes che aveva detto che è uomo homini lupus, cioè l'uomo è lupo o l'uomo, l'uomo è cattivo nei confronti dell'uomo e per dire che è cattivo usa il lupo. E allora io dico, no, un momento, perché è il lupo? Cosa c'entra il lupo, poverino, no? Che è anche in via di estinzione. Cioè, e quindi c'è tutto un discorso sul lupo che porta poi ad andare a vedere questa radice del lupo cattivo e individui proprio Fedro, la favola di Fedro, che è stata una delle cose, è una delle storie più antiche che parlano appunto del lupo cattivo che trova tutte le scuse possibili e immaginabili per poter mangiare l'agnello con cui si trova in contatto in quel momento, ma fa ridere questa favola, perché il lupo ne inventa di ogni, Prima gli dice, tu mi rendi torbi dall'acqua che io sto bevendo, però lui, il lupo è a monte, l'agnello è a valle, l'agnello dice, ma come faccio io a rendere la torbida? Allora lui si incazzano, allora inventa un'altra scusa, dice, tu sei mesi fa hai parlato male di me, e l'agnello gli dice, io non ero ancora nato sei mesi fa, e finché inventa la cosa che lo fa vincere, che dice, tuo padre ha parlato male di me, e lo mangia, e lo mangia. E così, potete farlo subito. Però la traduzione è bellissima, perché noi abbiamo visto solamente il racconto, perché io ho immaginato Fedro, dell'antica Roma, perché se poi oggi ci sono tutte le dispute dove è nato Fedro, qualcuni dicevano che era nato in Africa, altri dicevano no, in Medio Oriente, altri dicono no, no, è proprio originario di Roma, le ultime sono queste, le ultime notizie su Fedro, se a qualcuno interessano. Però di fatto, comunque, stava nell'impero romano, io ho immaginato che Fedro parlasse e raccontasse la sua favola usando la calata tipica romana, che io così cerco di imitare in qualche modo, i miei amici romani me l'hanno insegnata, e io cerco di applicarla. E da qui appunto l'ascolto, che da parte del pubblico resta fisso, si parli in latino, no, però c'è il racconto, è bello quello, no? Certo, certo. Guarda, io da tanto tempo ho imparato a considerare uno spettacolo nella sua bellezza e che ti dici tu, ecco sta venendo bene, non tanto dal quantitativo di risate che arrivano dal pubblico, perché questo era un vezzo proprio tipico di un certo mondo comico, cioè lo spettacolo funziona se la gente ride tanto. Te fa spanzare nel ridere, no? Non è vero, non è vero, la cosa più importante da avere e da percepire è l'attenzione del pubblico, se tu senti che il pubblico è attento quando racconti, anche se ride un po' di meno, che poi non vuol dire che non rida, perché in questo spettacolo si ride tantissimo, però posso anche concedermi delle pause di narrazione dove in realtà il pubblico in quel momento non ride, però lo sento che sta proprio seguendo quello che sto facendo e l'attenzione è fondamentale. E quindi il messaggio quale che sia passa meglio, ma da insegnante l'attenzione dura 20 minuti, dicono, poi dopo non c'è più, invece... E bisogna tenerli presenti però questi dati allora, cioè vuol dire che dopo 20 minuti di spiegazione devi trovare un sistema per alleggerire la lezione e poi riprenderla. Guarda che insegnare e stare sul palco è la stessa cosa, cioè proprio hai davanti un pubblico che tu devi interessare, intrattenere in qualche modo. E quindi fare l'insegnante o fare l'attore è uguale, devi studiarle tutte per cercare di tenere l'attenzione viva su di te. Con Flavio Oreglio, tra poco dopo la breve interruzione, di nuovo parliamo di spettacolo, di teatro, del suo spettacolo con voi. In edicola, signori, c'è Famiglia Cristiana, nuova veste grafica, l'abbiamo già commentata, che mette in copertina Ambrangiolini, diamo fiducia ai giovani, dice, anche Papa Francesco porta aria nuova, eh certo, è per bacco se la porta. Famiglia Cristiana per 2 euro la trovate in edicola come ogni settimana, oggi doppio appuntamento, perché mi sono dimenticato di farvelo vedere ieri, cari telespettatori, il giornalino in edicola, altrettanto per i più piccoli, sempre edizioni San Paolo. Siamo con il notissimo Flavio Oreglio che ci fa, la compagnia ci fa grande piacere avere qui con noi per parlare del suo nuovo spettacolo che si chiama sulle spalle dei giganti in scena fino al 17 di novembre al teatro della cooperativa di Milano, tutti i giorni tra l'altro. Sì, tutte le sere, sì. Un impegno mica da ridere. E alla domenica al pomeriggio però, alle 4 del pomeriggio. Alla domenica al pomeriggio siamo in zona niguarda, quindi per chi volesse ci si arriva facile, non abbiamo detto perché si chiama sulle spalle dei giganti. Certo, sulle spalle dei giganti una frase che disse Newton quando qualcuno gli disse al signor Newton lei è stato tra tutti gli scienziati quello che ha visto più lontano e lui rispose in questa maniera, dice io ho potuto vedere così lontano perché stavo seduto sulle spalle dei giganti. In realtà la frase non è sua, è una citazione, perché la frase risale a qualche secolo prima un intellettuale medievale proprio si chiamava Bernardo Di Chartre, famosissimo chi non lo conosce Bernardo Di Chartre, che disse proprio questa frase, disse noi siamo come nani issati sulle spalle dei giganti e questo è importantissimo e descrive bene qual è il senso della scienza perché tu non la fai da solo la scienza, la scienza è un'opera collettiva dell'umanità e quindi questi intellettuali avevano comunque riconosciuto il lavoro fatto dalle persone precedentemente a loro grazie al quale loro avevano potuto vedere ancora più in là e quindi è importantissimo, è proprio il senso della scienza e siccome appunto lo spettacolo racconta la storia della scienza mi sembrava giusto dare un titolo sulle spalle dei giganti. Io sono lì, però ci sono altri prima e a proposito di giganti, Flavio Oreglio si può dire che insomma negli ultimi anni dalla grande successo di quello Zelig dove tu eri uno dei protagonisti, il cabaret, insomma gli spettacoli in tv hanno preso anche a modello quel tipo di show e hanno cercato di duplicarlo ma con una critica che mi permetto perché quello lì faceva molto ridere, adesso invece ci sono dei cambiamenti o forse sono io che sto diventando grande, io ero più giovane, però dei cambiamenti che non lo so mi sembrava un più ricercato quel tipo di cabaret, al partire dal nome, il poeta catartico per esempio eri tu e molti altri, adesso invece c'è una ricerca di risata un po' più grassa però un po' più scema se mi è consentito, visto che tu sei attore e scienziato comico. Non mi devi tirare dentro in questa polemica perché poi sembra sempre che si parla però però la realtà io posso darti dei dati diciamo di un certo tipo, quando ci fu il primo Zelig il gruppo di attori comici che in quel momento fu reclutato per fare quella trasmissione era un gruppo di attori che aveva alle spalle una gavetta pazzesca, c'era chi aveva dai 6-7 anni di attività già sui palchi, chi aveva addirittura di più fino a 10-15 anni di attività e si è vista tutta questa cosa, è quella la differenza, è durato anche nel tempo, è durato nel tempo e non solo è durato nel tempo ma perché sai c'era anche un indice di gradimento è stato molto alto, poi potevano, c'erano degli artisti che ti potevano piacere o non piacere in base alla loro proposta ma sicuramente erano tutti dei professionisti che erano impressionanti dal punto di vista dell'esperienza, poi è andato via via scemando questa cosa nel senso che oggi molto spesso non sempre perché ancora qualcuno salta fuori che ha una gavetta già alle spalle ma molti sono proprio alle prime armi che arrivano lì perché ci sono i laboratori che costruiscono proprio i minuti, un minutaggio breve dove quasi chiunque può misurarsi il personaggio un po' sciocco, magari va bene per quella stagione, fa quel suo minutaggio, basta sì e poi è cambiato anche il riferimento, non dimentichiamoci che Zeli partì in seconda serata su Italia 1 a lunedì sera, il cabaret è uno spettacolo, non è uno spettacolo per famiglie diciamo, uno spettacolo per adulti in qualche modo, trasferendosi poi in prima serata prima su Italia 1, poi su Canale 5 perché addirittura, chiaramente ha dovuto sottostare alle leggi di altra natura, ha cambiato completamente la pelle e quindi siamo passati da una forma di spettacolo che in qualche modo tendeva al cabaret a una forma di spettacolo che tende verso altre dimensioni che sono il varietà, l'avanspettacolo, fino all'animazione da villaggio, questa è la realtà dei fatti. Che è quello più simile ad adesso, le scenette con il pernacchio, il fischietto, quella roba lì spesso si vede, sono gli animatori da villaggio che va benissimo, però non ha più niente a che vedere con il mondo del cabaret, già era al limite parlare di cabaret con il primo zelic, però... E adesso il mondo del cabaret è quello non televisivo ma quello da locale, esiste ancora, può tornare? Certo, come? Guarda io ti posso dire che a Milano c'è un underground vivissimo sotto questo punto di vista, dove ci sono artisti straordinari che non sono conosciuti dal pubblico, purtroppo, e che fanno fatica a farsi conoscere perché ormai i cliché sono quelli zelighiani, che tu faccia a Zeli in Colorado, Made in Sud, che tu faccia le trasmissioni magari quelle anche su Sky, sono tutte simili, sono tutte queste carrellate di comici e quindi diciamo che parlare di comicità è una cosa e parlare di cabaret è un'altra, il cabaret sopravvive come e c'è, solo che non lo si propone mai. Vediamo intanto il sommario per chiudere questa nostra trasmissione, il sommario della TGN in onda 19 e 15 con Jacopo Casoni, lo vediamo via. Domani è il giorno dello sciopero generale, quattro ore di stop decise dai sindacati, il trasporto pubblico però funzionerà regolarmente in virtù della situazione straordinaria creata dalla partita della nazionale a San Siro, discorso che non vale per Trenord a rischio di disagi. Domattina corteo di CGL Cisle Will da Porta Venezia. E' stata inaugurata stamattina la nuova centrale operativa di ATM, viene unificato il controllo delle tre linee della metropolitana con strumentazione all'avanguardia, il costo per l'azienda è stato di 11 milioni e mezzo di euro. Il comune ha ufficializzato il ricorso contro la sovrintendenza per la vicenda legata al vigorelli, una battaglia che prosegue a colpi di carte bollate quindi con la giunta Pisa Pia che insiste con il progetto di un nuovo polo sportivo con un velodromo part time. I collettivi studenteschi hanno occupato l'ex cinema De Amicis non lontano dall'Università Cattolica a Milano. Per cinque giorni, assicurano i ragazzi, si terranno laboratori su varie tematiche culturali e sociali. 19.15 TGN, dopo di noi la chiesa nella città con Anna Maria Braccini che parla del cardinale che è andato in Russia, Flavio Reglio, da questo libro ha tratto lo spettacolo sulle spalle dei giganti, teatro a cooperativa di Milano fino al 17 di novembre. Quanto costa? Ci sono una varietà di costi, mi sembra che sia 18 euro, però poi ci sono tutti gli sconti se lo prenotti su internet, c'è un mondo, bisogna guardare il profilo del teatro della Non deve costare tanto venire a teatro perché è un bel modo per intrattenersi per un po'. Prossimi appuntamenti invece, nuovi libri, sempre scienza, matematica, le stai toccando tutte, latino, tutto abbiamo detto. Sì, adesso mi devo mettere all'opera per scrivere il terzo volume che uscirà l'anno prossimo. Della curiosa storia della scienza, 1, 2, 3, ok. E l'appuntamento però più importante che mi sento di segnalare dopo il teatro della cooperativa sarà il 24 di novembre, dove presenterò questo libro al Museo di Storia Naturale, nell'ambito di Book City. C'è la manifestazione Book City e sono... Stando nell'ambito scientifico. Certamente. Grazie a Flavio Reglio, è stato un piacere averti qui, noi ci salutiamo, ci vediamo domani puntuali ore 18 fino alle 19 insieme. Parliamo di politica, avremo anche il neo eletto a segretario provinciale del Partito Democratico, Bussolati. A domani, buona serata. Questo programma vi ho offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.